Inchiesta esplosione a Calenzano fa ripuntati sull'intervento di manutenzione straordinaria tra i milioni di danni alle aziende vicine. Domenica 29 dicembre la Chiesa di Prato celebrerà l'inizio del giubileo con una messa solenne in cattedrale. Installazione di un'antenna 5G a Grignano, i residenti protestano. Il punto prelievi dell'area pratese si sposta dal centro Giovannini in via Giubilei. La Fondazione Casta di Risparmi ha letto 19 soci nel 2025, 1.300.000 euro per la comunità. Buonasera dalla nostra redazione. Torniamo ad occuparci del deposito Eni di Calenzano. Sono state eseguite le autopsie sulle 5 vittime. I fari dell'inchiesta sono puntati sulle modalità dell'intervento di manutenzione straordinaria che era in corso durante il rifornimento di carburante delle autocisterne, poi distrutte dall'esplosione. Intanto i sindacati dell'autotrasporto puntano il dito contro le compagnie petrolifere. Da anni portano avanti politiche che hanno indebolito la sicurezza. Sono state eseguite all'Istituto di Medicina Legale di Careggi le autopsie sui corpi delle 5 vittime dell'esplosione al deposito Eni di Calenzano. Nelle prossime ore verranno effettuate le verifiche per compiere la formale identificazione e a questo proposito saranno raccolti i DNA dei familiari delle vittime. Saranno inoltre eseguite verifiche antropometriche sulle impronte dentali da due genetisti incaricati dalla Procura. L'inchiesta prosegue per omicidio colposo plurimo, crollo di costruzione o altri disastri dolosi e rimozione o omissione dolosa di cautelenti infortunistiche. Le indagini si concentrano sui lavori di manutenzione straordinaria in corso nei pressi delle penseline di carico dove c'è stata la perdita di liquido infiammabile, la propagazione di vapori di carburante e la disastrosa esplosione che ha ucciso 5 persone e ne ha ferite altre 9, di cui due tuttora gravi. Perquisizioni hanno riguardato sia le sedi dell'ENI sia quelli della Sergen a Potenza, la ditta che si stava occupando delle manutenzioni. In particolare l'intervento in corso proprio vicino all'area di carico avrebbe riguardato la rimozione di alcune valvole e tronchetti per mettere in sicurezza una linea benzina dismessa da anni. Ma eseguire interventi di manutenzione durante le operazioni di rifornimento era consentito e sono state rispettate le norme di sicurezza nel deposito ENI soggetto alla direttiva SEVES o quale stabilimento industriale a rischio di incidente rilevante? La risposta a queste domande dovrà arrivare dal procedimento giudiziario. Nei decreti di perquisizione gli inquirenti ipotizzano l'inosservanza delle rigide procedure previste e la tenuta di condotte scellerate. Intanto Filt CGL, Filt CISL e Wiltrasporti chiedono al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone un incontro urgente per definire una mappatura dei siti di stoccaggio e di carico e scarico e per trovare rapide soluzioni che aumentino la sicurezza dei lavoratori, dell'autotrasporto, dei carburanti e combustibili. I sindacati puntano il dito contro le compagnie petrolifere che negli ultimi anni hanno spinto i processi di esternalizzazione delle attività, la ricerca di riduzione dei costi attraverso tariffe sempre più basse e l'estensione del ricorso a contratti di subvezione a piccolo o micro imprese di autotrasporto. Condizioni che, secondo i sindacati, hanno indebolito la gestione della sicurezza allungando la catena della responsabilità. Danni complessivi per 3 milioni di euro alle aziende di Calenzano vicine all'area del deposito enico involta dall'esplosione di lunedì. La stima è di CNA Piana Fiorentina che fra ieri e oggi ha incontrato più di 30 aziende danneggiate nella zona del Pratignone. Le ditte più vicine, tra infissi di velti, vetrate rotte e controsoffitti che hanno ceduto ma anche problemi più importanti, hanno riportato danni in media intorno ai 50 mila euro ciascuna. Quelle distanti dai 400 metri ad un chilometro dall'impianto Eni lamentano danni inferiori tra i 10 e i 20 mila euro. Il comune di Calenzano ha attivato una casella email a beneficio sia delle aziende sia dei privati cittadini che hanno riportato danni materiali per richieste che saranno poi indirizzate a Eni. L'indirizzo è richieste.eni-comune.calenzano.fi.it Cambiamo argomento con una messa solenne in cattedrale. Domenica 29 dicembre la Chiesa di Prato celebrerà l'inizio del Giubileo. L'Anno Santo, dedicato da Papa Francesco al tema della speranza, si aprirà in diocesi con un pellegrinaggio per le strade della città. Inoltre il Vescovo Nerbini ha stabilito che la cappella del carcere e quella dell'ospedale saranno chiese giubilari particolari nel servizio. Sarà una grande processione di popolo guidata dal Vescovo Giovanni Nerbini a decretare l'inizio del Giubileo nella Diocesi di Prato. Domenica 29 dicembre, nel pomeriggio, le parrocchie si ritroveranno in una chiesa del proprio vicariato. Da lì si muoveranno a piedi verso San Domenico, dove alle ore 16 tutte insieme ascolteranno la lettura della bolla d'indizione del Giubileo 2025. Poi la comunità diocesana si recherà in cattedrale compiendo un pellegrinaggio cittadino, al quale parteciperà anche l'amministrazione comunale, con la sindaca Elaria Bugetti dietro il gonfalone. Quel giorno tutte le messe vespertine sono sospese per dar modo ai sacerdoti e ai fedeli di poter partecipare al grande evento, che sarà seguito in diretta su TV Prato. Se il mondo va come va, ci rendiamo perfettamente conto che questo dipende dal prevalere dell'egoismo, del peccato, dell'ingiustizia. E quindi abbiamo bisogno di un Giubileo, che ci rimetta di fronte a noi stessi nella prospettiva dell'accoglienza di ciò che Dio ci dice e ci dona. Papa Francesco aprirà la Porta Santa della Basilica di San Pietro il giorno della Vigilia di Natale e in quel momento inizierà il Giubileo. Domenica 29 dicembre è la data indicata dalla bolla d'indizione spes non confundit, la speranza non delude, per la celebrazione solenne dell'apertura dell'Anno Santo nelle cattedrali di tutto il mondo. Il Giubileo è un cammino di conversione e redenzione. Per compierlo si chiede ai fedeli di fare un pellegrinaggio a Roma, in San Pietro o nelle chiese giubilari aperte in tutto il mondo. A Prato il Vescovo ha stabilito che per tutta la durata dell'Anno Santo siano chiese giubilari, la cattedrale, i quattro santuari mariani, Santa Maria delle Carceri, del Soccorso, della Pietà e del Giglio, la Basilica di Santa Caterina dei Ricci e le cappelle dell'ospedale e del carcere. È proprio nell'ospedale che l'uomo ha bisogno di ritrovare una speranza e va anche al di là del suo stato di salute e se c'è un luogo dove davvero il linguaggio della speranza è prezioso è il carcere, dove a volte si vive la disperazione come purtroppo anche le statistiche ci ripetono considerati il numero dei suicidi che si verifiano sia tra i carcerati che tra i membri della polizia carceraria. Alcuni residenti di Grignano hanno organizzato un sit-in di protesta per chiedere di fermare l'installazione di una nuova antenna 5G nel piazzale Cortopassi. Sono preoccupati i residenti di Grignano che abitano vicino al piazzale Cortopassi dove in questi giorni è stato aperto il cantiere per l'installazione di una nuova antenna 5G. Gli abitanti lamentano di non essere stati messi a conoscenza dell'operazione ed aver appreso dell'installazione solo quando è stato aperto il cantiere. Noi ci siamo svegliati una di queste mattine e abbiamo trovato questo nuovo cantiere senza nessun cartellone informativo a informare la popolazione. Dopo qualche giorno è spuntato questo cartellone che ci informa che sta per spuntare una nuova antenna 5G. Ci hanno tenuti evidentemente all'oscuro di questo, non è stata coinvolta la popolazione locale. Sono tanti interrogativi, tanti dubbi. Vogliamo che qualcuno ci venga incontro alle nostre richieste di chiarimenti. Le preoccupazioni principali sono legate alle eventuali ricadute sulla salute che la presenza dell'antenna potrebbe causare. Ad oggi non esistono studi scientifici che evidenzino la pericolosità o meno delle onde, incertezza che contribuisce ad aumentare la preoccupazione dei residenti. Ci sono le abitazioni, a 50 metri c'è un campo di calcio dove si allenano i bambini, c'è la scuola calcio. Che non ci sia stato un altro posto dove mettere questa benedetta antenna, mi sembra strano. La Vodafone l'ha scelto di mettere avvi. Io non so chi è il responsabile di questa cosa, però dateci almeno la possibilità di parlarne, di discuterne. C'è un circolo, si poteva discutere in un circolo, la popolazione grignano poteva decidere lì se era fatta bene, se non era fatta bene. Il Comune ha fatto sapere che la richiesta di installazione è passata come da prassi dalla conferenza dei servizi, ricevendo parere favorevole sia dall'ufficio ambiente che da Arpat, con un'unica prescrizione che è stata poi ottemperata, permettendo così l'installazione. I residenti però hanno intenzione di andare avanti. I nostri prossimi passi saranno fare un accesso agli atti per vedere meglio che cosa c'è dietro a questa installazione e valutiamo anche di fare un ricorso. In più vorremmo chiedere alla sindaca, all'assessore competente, un incontro pubblico che pensiamo di meritare. Visto che qua appunto si tratta di rischi sanitari non ben ancora definiti. Con la nuova riorganizzazione, da lunedì 16 l'accesso diretto al punto prelievo dell'area pratese si sposta dal centro sociosanitario Giovannini a quello di via Giubilei. Nuova riorganizzazione nell'area pratese per l'accesso diretto al punto prelievo che dal centro sociosanitario Giovannini dal prossimo 16 dicembre si sposta in via Giubilei 16 nella zona nord della città. L'offerta con la riorganizzazione al Presidio Giovannini garantirà fino ad un totale di circa 200-210 prelievi giornalieri ordinari prenotabili su zero code. L'attività al Presidio Giovannini compensa la chiusura dei prelievi ad accesso diretto e mantiene invariate tutte le altre attività programmate preesistenti con un potenziamento delle agende CUP zero code. Per usufruire dei servizi ad accesso diretto in via Giubilei nella fascia oraria 7.30-8.30 verrà erogato un numero per l'ordine dell'attesa fermarestando la flessibilità nell'accoglienza dei cittadini. L'attività di accettazione e le conseguenti di prelieve e ritiro campioni avranno luogo immediatamente dopo l'emissione del primo numero e continueranno sulla base dei suoi numeri ritirati nella fascia oraria consentita. Sono diverse le sedi presso le quali a Prato si può effettuare il prelieve matico o consegnare campioni utilizzando la prenotazione zero code per avere l'appuntamento programmato. Le attese per gli appuntamenti in questo momento, fa sapere l'Asla, mediamente si attestano sugli 8-9 giorni lavorativi. Da gennaio 2025, fa sapere sempre l'Asla, l'attesa si ridurrà perché verranno ripristinate alcuni punti prelievi convenzionati. È mancato questa notte Adriano Bello, presidente del Consiglio di Amministrazione di Jersey Mod SPA, impresa fondata insieme a Luigi Conti nel 1971 e specializzata nella nobilitazione dei tessuti a maglia. Classe 1934, Bello era nato a Prato, attivo in azienda fino all'ultimo a fianco dei suoi familiari e soci, ha accompagnato la Jersey Mod nel percorso che l'ha condotta a essere un'impresa in linea con le esigenze di innovazione e sostenibilità richieste dal mondo tessile attuale. Bello è stato anche vicepresidente dell'Unione Industriale Pratese e dal 2006 al 2011. Le eseque si terranno sabato alle ore 15 nella chiesa di San Giuseppe in Viale Montegrappa, Confindustria Toscana Nord, esprime alla famiglia le più sentite condoglianze. La Fondazione Cassa di Risparmio ha eletto 10 nuovi soci nel corso dell'ultima assemblea. Per il 2025 è messo a disposizione 1.300.000 euro di risorse destinate ai contributi per le realtà locali. La Fondazione Cassa di Risparmio di Prato chiude il 2024 e apre le porte al 2025 con le stesse parole d'ordine. Attenzione alla comunità locale e alle sue fragilità, cura speciale dei giovani, funzione di stimolo e supporto per i progetti della comunità platese nell'ambito della formazione e dell'educazione, della cultura e beni culturali, del volontariato e della solidarietà. Sono gli obiettivi strategici che ha confermato la Presidente Diana Toccafondi presentando l'attività del 2024 e le previsioni del 2025 nel corso dell'assemblea dei soci che si è svolta martedì. Nel corso del 2024 la Fondazione è riuscita a derogare circa 1.200.000 euro destinati a progetti di istruzione e formazione, arti, attività e beni di volontariato. A queste risorse si aggiungono 1.302.000 euro del progetto Alluvione, un fondo speciale assegnato alla stessa fondazione da Acre e da altre fondazioni per fronteggiare l'emergenza. Per il 2025 le risorse destinate ai contributi raggiungono quota 1.300.000 euro. Viene inoltre confermato il progetto strategico Prato Comunità Educante che ha già coinvolto 1.800 studenti, 30 enti del terzo settore e 13 istituti scolastici. Confermata l'attenzione particolare anche al problema casa attraverso il progetto Insieme 2 mirata al ricupero di appartamenti di risulta dell'IPP, sono stati 10 quelli assegnati nel 2024. È stata un'assemblea che ha visto un'ampia partecipazione durante la quale sono stati eletti anche 10 nuovi soci. Sono Fulvio Barni, Leonardo Borsacchi, Luca Bravi, Stefania Cecchi, Paola Fagioli, Furio Fratoni, Gianni Gualtieri, Andrea Menichetti, Monica Norcini e Francesca Zannoni. Inizia un nuovo capitolo per Gida, la storica società pratese di gestione della depurazione e del riciclo delle acque che da oggi entra sotto la guida della nuova governance nominata dall'Assemblea dei Soci. A seguito della recente acquisizione da parte di Alia Multutility, il nuovo presidente Andrea Biagini assume il timone di Gida succedendo ad Alessandro Brogi. Nuovo codice della strada da sabato 14 dicembre. entreranno in vigore norme molto stringenti. Abbiamo fatto il punto su cosa cambierà con la Polizia Municipale di Montemurlo. entrerà in vigore sabato 14 dicembre il nuovo codice della strada. Le novità principali riguardano la guida sotto l'effetto di alcol e stupefacenti, l'uso dei telefonini alla guida, i monopattini e i limiti per i neopatentati. A fare il punto, a pochi giorni dall'entrata in vigore delle nuove norme, la comandante della Municipale di Montemurlo, Enrica Cappelli, e l'assessore Forastiero. I numeri parlano chiari e sono sconfortanti. Basta pensare che la Commissione europea aveva un obiettivo per il 2030 di ridurre i feriti e i morti da incidenti esteradali del 50%. Oggi, dati del primo semestre 2024, i dati dicono altro. 80.000 sinistri conferiti, 105.000 feriti, 1429 morti, più 4% di morti. Sicuramente questa stretta è dovuta anche a questi dati non confortanti. Uno dei cardini della riforma è il sanzionamento sia dei comportamenti attivi, come la mancata precedenza ad un incrocio, che quelli passivi, come l'uso del telefono alla guida. Ci sono alcune sanzioni che preme evidenziare, tipo la sosta sugli spazi invalidi, che oggi, dal 14 di dicembre, sarà di 330 euro più 4 punti. Bisognerà stare molto attenti alle intersezioni, le precedenze, l'uso del telefonino, che prevede delle sanzioni pesantissime, e la sospensione immediata della patente. La stretta che il governo ha voluto dare si ripercuoterà in modo immediato, dal 14 dicembre, su questi comportamenti che si ritengono estremamente non positivi. Ovviamente, all'interno, sono presenti anche l'aggraveo delle sanzioni, guida al stato di ebrezza, guida dopo l'uso degli stupefacenti, che anche questo ha cambiato enormemente la norma. E quindi, diciamo, ci sono tutte delle accortezze sui comportamenti monopattini. È previsto adesso l'utilizzo del casco, non solo per i minorenni, ma anche per i maggiorenni. Sulle assicurazioni c'è una stretta fortissima. Attraverso i nostri apparecchi di rilevamento dei semafori, quindi della violazione del passaggio corroso semaforico, ora abbiamo la possibilità di fare verifiche da banca dati per verificare se il veicolo è o non è assicurato. Quindi la persona non solo riceverà il passaggio corroso, sanzione che è stata aumentata, più l'assicurazione. Quindi diciamo che c'è un potenziamento dei controlli. Tutti in acqua per sostenere la ricerca. È in programma dalle ore 13 di sabato 14 dicembre alle ore 13 di domenica 15 la terza edizione della manifestazione benefica Una vasca per Aisla. La maratona di nuoto non stoppa la piscina di Mezzana per raccogliere fondi in favore dell'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. Sabato alle 13 inizia la maratona di nuoto non competitiva a favore di Aisla e terminerà la domenica alle 13. Come ho detto è una maratona non competitiva di raccolta fondi per la nostra associazione. Aspettiamo tante persone e quel ricavato andrà a favore dei servizi che Aisla Prato propone per i nostri malati e le loro famiglie. Avremo l'acqua gym, ci sarà anche la pallanuoto che farà una piccola partita, avremo tantissimi ospiti e poi c'è anche l'apertura del bar Tummi Tuffi dove Martina ci preparerà cene, merende, aperitivi e aiuterà ad aglietare queste 24 ore. Quindi venite numerosi, vi aspettiamo una piccola donazione per un grande obiettivo. Al Garibaldi 1020 si brinderà il nuovo anno in compagnia di Paolo Endel. Il 31 dicembre alle 21.45 andrà in scena lo spettacolo Tempi Moderni scritto da Paolo Endel e Marco Vicari. Musica dal vivo con Michele Staino al contrabbasso e Renato Cantini alla tromba. A mezzanotte brindisi in compagnia del cast dello spettacolo e Paolo Endel in persona a invitarvi alla serata. Allora, mettiamoci d'accordo una volta per tutte. Sì, sì, perché lo so come succede. Dice, cosa fate per l'ultimo dell'anno? Ah, io nulla. Me ne sto in casa da solo, come al solito. Leggo qualcosa e v'ho a letto presto. Mamma mia! Oh, sai che tristezza! No! Noi! Michele Staino al contrabbasso! Renato Cantini alla tromba! Abbiamo deciso l'ultimo dell'anno, 31 dicembre, di passarlo insieme a voi al Garibaldi di Prato. Grande serata con due straordinari musicisti a ridere, giocare e scherzare tutti insieme. Pronti? Un, due, tre. Via! Il professor di chimica soffiando in un cannello si rese incandescente la punta... Oi, oi, ho sbagliato, scusate. No, no, chissà cosa pensavo. Via! Ancora una notizia prima dell'agenda, una notizia di sport, perché la Cip Prato ha ufficializzato la risoluzione contrattuale con l'attaccante Riccardo Moreo. Ovviamente i dettagli sono sul nostro sito, ve lo ricordo, tvprato.it. Ed è davvero il momento dell'agenda, diamo uno sguardo quindi agli appuntamenti di domani. Alla biblioteca Lazzerini alle 17, nella sala ragazzi, si terrà il primo incontro del gruppo di lettura per ragazze e ragazzi dagli 11 a 14 anni. Protagonista sarà il libro L'ultimo orso di Anna Gold, pubblicato da Salani. Sempre alla Lazzerini, ma in sala conferenze, alle 17 si parlerà di disabilità, con la presentazione del libro di Luca Pampaloni, Lottare per vincere, dei diritti e delle pene per ottenerli. Insieme all'autore saranno presenti anche Sauro Lascialfari, Elena Cavaciocchi, Giuliana Amissio e Mauro Parrini. Alla Salabanti alle 21, lo spettacolo Locanda 23, una commedia brillante a cura della compagnia Animati di Scena. L'ingresso è gratuito e ad offerta libera. Infine alle 21.15, al Cinema Terminale, la programmazione del film L'orchestra sonata Voss. E per questa edizione è tutto, non ci sono aggiornamenti, vi lasciamo al meteo e agli altri programmi della serata, tra cui Parliamoci Chiare, o grazie per l'attenzione. Arrivederci. L'orchestra sonata Voss. L'orchestra sonata Voss. Ragazzi, l'albero è pronto, ma i regali? Tranquilli, abbiamo pensato a tutto noi. I regali ti aspettano da Clover. Che Natale sarebbe senza qualcosa di speciale sotto l'albero? Da Clover trovi il regalo che racconta la tua storia, gioielli unici, orologi di prestigio e tanto altro per sorprendere chi ama. Quest'anno rendi il tuo Natale indimenticabile, scopri la magia delle feste da Clover gioielli. Ti aspettiamo in Piale Piave a Prato. Buonasera dal Consorzio Lama. Questa è la situazione prevista per le ore centrali della giornata di domani. La nostra penisola è ancora interessata da un campo di relativa alta pressione. Tuttavia, la depressione attualmente presente sulla penisola iberica tenderà a farsi sentire nuovamente anche sulla nostra regione a causa della presenza di questa linea di instabilità che già dal pomeriggio ai domani determinerà un peggioramento. Per quanto riguarda quindi la previsione per domani venerdì si prevedono inizialmente condizioni di cielo poco nuvoloso sul nord della regione e nuvolosità invece in rapido aumento sulle province centro-medidionali e già qualche pioggia sul basso grossetano. I venti saranno da nord-est generalmente deboli nell'interno moderati su costa e arcipelago. Le temperature minime di domattina saranno ancora localmente localmente al di sotto dello zero sebbene vi sia anche un leggero aumento rispetto a questa mattina. Per quanto riguarda la tendenza per il pomeriggio è all'insegna di un'estensione delle precipitazioni a gran parte della Toscana centro-meridionale. Per quanto riguarda le temperature massime di domani sono previste stazionarie o comunque in lieve calo a causa della copertura nuvolosa e delle precipitazioni. Tendenza poi per la giornata di sabato vede in mattinata un cielo parzialmente nuvoloso con qualche locale precipitazione a carattere molto isolato. La tendenza poi nel pomeriggio vede invece una maggiore probabilità di precipitazioni sempre a carattere sparso in particolare sulle province centro-meridionali. I venti saranno nel complesso deboli, mari poco mossi, ancora occasionalmente ancora mossi a largo. Le temperature di sabato sono previste in aumento nei valori minimi mentre i valori massimi non dovrebbero subire variazioni significative. Con questo direi che è tutto e buona serata. Grazie! 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 Grazie a tutti.